1. Saluti. Ciao. Cześć. Piacere di conoscerti. Miło cię poznać. Kometikiami. Jak się nazywasz? Jak się nazywasz? Jak się nazywasz? Jak się nazywasz? Mi chiamo Alex. Nazywam się Alex. Nazywam się Alex. Nazywam się Alex. Sono Alex. Jestem Alex. Jestem Alex. Jestem Alex. Qual è il tuo nome? Jak masz na imię? Jak masz na imię? Jak masz na imię? Mi chiamo Daniel. Mam na imię Daniel. Mam na imię Daniel. Mam na imię Daniel. Qual è il tuo cognome? Jak masz na nazwisko? 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 Il mio cognome è Potter. Mam na imię Daniel. Potter Mam na nazwisko Potter Mam na nazwisko Potter Come si scrive? Czy możesz to przeliterować? Czy możesz to przeliterować? B-O-T-T-E-R 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 B-O-T-E-R 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 Sto molto bene, grazie. E tu? A ty? A ty? Sto bene, grazie. Ok, dzięki. Ci vediamo. Stam mi bene. Trzymaj się. Trzymaj się. Trzymaj się. Arrivederci. Do widzenia. 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 Di dove sei? Vengo dalla Gran Bretagna. Sei inglese? Czy jesteś anglikiem? Czy jesteś anglikiem? Si, sono inglese. No, sono australiano. Nie, jestem australijczykiem. Nie, jestem australijczykiem. Dove sei cresciuto? Gdzie dorastałeś? Gdzie dorastałeś? Sono cresciuto a Berlino. Dorastałem w Berlinie. Dorastałem w Berlinie. Quanti anni hai? Ile masz lat? Ile masz lat? Od 17 anni. Mam 17 lat. Mam 17 lat. O 19 anni. Mam 19 lat. Mam 19 lat. Mam 19 lat. Quanti anni ha tuo fratello? Ile lat ma twój brat? Mio fratello ha 20 lat? Mio fratello ha 20 anni. Mam 19 lat. Mio fratello ha 25 lat. Mam 20 lat. Mam 25 lat. Mam 25 lat. Mam 25 lat. Mam 25 lat. Ona ma 25 lat. Ile masz lat? Ile masz lat? Ile masz lat? Ile masz lat? O 34 anni. Mam 34 lata. Mam 34 lata. Mam 34 lata. Mam 34 lata. O 39 anni. Mam 39 lat. Mam 39 lat. Mam 39 lat. Mam 39 lat. Quanti anni ha Daniel? Ile lat ma Daniel? Ile lat ma Daniel? Ile lat ma Daniel? Tom ma 42 lata. Tom ma 42 lata. Tom ma 42 lata. Lui a 56 anni. On ma 56 lat. On ma 56 lat. On ma 56 lat. Che lavoro fai? Sono un insegnante. Che lavoro fai? Che lavoro fai? Che lavoro fai? Jestem nauczycielem. Sono un ingeniere. Jestem inżynierem Jestem inżynierem Jestem inżynierem Jestem inżynierem Killa buru fallej Jaki jest jej zawód? Jaki jest jej zawód? Jaki jest jej zawód? Lej e un medico Ona jest doktorem Ona jest doktorem Ona jest doktorem Jaki jest zawód? Jaki jest zawód? Twojej siostry Jaki jest zawód? Jaki jest zawód? Twojej siostry? Jaki jest zawód? Ona jest aktorką Ona jest aktorką Ona jest aktorką Killa buru fallej Jaki jest jej zawód? Jaki jest ich zawód? Jaki jest ich zawód? Jaki jest ich zawód? Jaki jest ich zawód? Loro są piloty Oni są pilotami Dove lavori? Gdzie pracujesz? Gdzie pracujesz? Gdzie pracujesz? Lavoro per Google Gdzie mieszkasz? Gdzie mieszkasz? Gdzie mieszkasz? Gdzie mieszkasz? Gdzie mieszkasz? Bivoa, Madrid Mieszkam w Madrycie Mie-sz-kam w Madry-cie. Mie-sz-kam w Madry-cie. Mie-sz-kam w Madry-cie. Conchi-di-bi. Z kim mieszkasz? Z kim mieszkasz? Z kim mieszkasz? Vivo con i miei genitori. Mieszkam ze swoimi rodzicami. Mie-sz-kam ze swoimi rodzicami. Mie-sz-kam ze swoimi rodzicami. Mie-sz-kam ze swoimi rodzicami. Mie-sz-kam z-am. Mie-sz-kam z-am. Mie-sz-kam z-am. Mie-sz-kam z-am. Mie-sz-kam z-am. Mie-sz-kam z-am. Il mio numero di telefono è uno, due, tre, quattro, cinque. Il mio numero di telefono è uno, due, tre, quattro, cinque. Il mio numero di telefono è uno, due, tre, quattro, cinque. Qual è il tuo numero? Il mio numero di telefono è uno, due, tre, quattro, cinque. Il mio numero di telefono è uno, due, tre, quattro, cinque. Il mio numero di telefono è uno, due, tre, quattro, cinque. Il mio numero di telefono è uno, due, tre, quattro, cinque. Il mio numero di telefono è uno, due, tre, quattro, cinque. Sono nato l'otto marzo. Il mio numero di telefono è uno, due, tre, quattro, cinque. Il mio numero di telefono è uno, due, tre, quattro, cinque. Il mio numero di telefono è uno, due, tre, quattro, cinque. Il mio numero di telefono è uno, due, tre, quattro, cinque. Moje urodziny są 21 czerwca. Quando è il tuo compleanno? Kiedy są twoje urodziny? Kiedy są twoje urodziny? Były wczoraj. Były wczoraj. Były wczoraj. È stato lo scorso mese. Były w zeszłym miesiącu. 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 To jest. Kto to jest? Quella è mia madre. To jest moja matka. 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 To jest mój brat. Chi sono loro? Kim oni są? Kim oni są? Kim oni są? Kim oni są? Loro sono i miei genitori. To są mój rodzice. To są mój rodzice. To są mój rodzice. Cos'è quello? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Quella è una penna. To jest długopis. 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 Cos'è questo? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Questa è un'anatra. To jest kaczka. To jest kaczka. To jest kaczka. To jest kaczka. È tuo questo libro. Co to jest? To jest kaczka. To jest kaczka. To jest kaczka. Czy to jest twoja książka? Tak, to jest moja książka. Tak, to jest moja książka. Tak, to jest moja książka. No, questo libro non è mio. Nie, to nie moja. Nie, to nie moja. Nie, to nie moja. Nie, to nie moja. È un cappotto, questo? Czy to jest płaszcz? Czy to jest płaszcz? Sì, questo è un cappotto. Tak, to jest płaszcz. Tak, to jest płaszcz. Tak, to jest płaszcz. Tak, to jest płaszcz. No, non lo e. Nie, to nie jest płaszcz. 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 Czy to są twoje buty? 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 Sì, queste sono le mie scarpe. Tak, to są moje buty. Tak, to są moje buty. No, queste sono le scarpe di Lucas. Nie, one należą do Lucasa. Nie, one należą do Lucasa. Nie, one należą do Lucasa. Cosa sono questi? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Questi sono i miei pantaloni. Questi sono i miei pantaloni. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Quelli sono i miei orecchini. To są moje kolczyki. To są moje kolczyki. Co to są moje kolczyki. Co to są moje kolczyki. Quattro. Parlare di cibo. Qual è il tuo cibo preferito? Qual è il tuo Il mio cibo preferito è la pizza. Moje ulubione jedzenie to pizza. Moje ulubione jedzenie to pizza. La pizza è il mio cibo preferito. Pizza jest moim ulubionym jedzeniem. 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 C'è chińskie jedzenie? C'è chińskie jedzenie? C'è chińskie jedzenie? No. No. Lui mangia carne? Sì, mangia carne. No, lui è vegetariano. Non, lui è vegetariano. Non, lui è vegetariano. Cosa bevi? Co pijesz? Bevo birra. Pijem piwo. Non bevo alcool. Non bevo alcool. Non bevo alcool. Cosa beve lui? Co on pije? Co on pije? Lui beve acqua. Lui non beve latte. On ne pije mleka. On ne pije mleka. Cinque. Parlare di ora e data. Che ora è? 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 copi? Che ora è? Che ovvero le sette puntuali. Che ora è? Cosa è? No. Quando si semplica lo messo con le sitze? No, qui senti il sit, la heures? Jest siódma dziesięć. Che ore sono? Che ore sono? Che ore sono? Che ore sono? Manca un quarto alle sette. Sono le sette e mezzo. Che giorni è oggi? Oggi è lunedì. Dziś jest poniedziałek. Dziś jest poniedziałek. Oggi è martedì. Dziś jest wtorek. Dziś jest wtorek. Dziś jest wtorek. Dziś jest wtorek. Dziś è lunedì. Dziś è lunedì. È giovedì. È cattore. È cattore. È cattore. È cattore. Che data è oggi? Che è oggi? È oggi è sabato 7. È oggi è sabato 7. Dziś è sabato 7. Dziś è sabato 7. Dziś è sabato 7. È oggi è domenica 21. È niedziela 21. È niedziela 21. È niedziela 21. È niedziela 21. Che giorno è domani? Dziś è domenica 21. Dziś è domenica 21. Giù. 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 Oggi è il dieci gennaio. Dziś jest 10 stycznia. Oggi è il ventitré aprile. Dziś jest 23 kwietnia. Dziś jest 23 kwietnia. Dziś jest 23 kwietnia. Dziś jest 23 kwietnia. 6. Parlare della posizione delle cose. Cosa stai cercando? Czego szukasz? Czego szukasz? Czego szukasz? Czego szukasz? Sto cercando il mio portafogli. Szukam swojego portfela. Szukam swojego portfela. Szukam swojego portfela. Szukam swojego portfela. Ho perso le mie chiavi. Dov'è il mio portafoglio? Gdzie jest mój portfela? 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 la tv. Dove sono i miei occhiali da sole? 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 Sono sulla mensola. Sono dentro la scatola. Dove sono i miei occhiali da sole? 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 No, è sulla sedia. Dove sono i miei occhiali da sole? 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 Sono nel cassetto. Sono nel cestino. Sono v'cozio. Sette. Descrivere le cose. Com'è l'hamburger? C'è qui est l'hamburger? L'hamburger è delizioso. Questo è un hamburger delizioso. Quanto veloce va la tua macchina? La mia macchina è piuttosto veloce. La mia macchina è molto veloce. La mia macchina è davvero veloce. Quanto è grande la casa? La casa è piuttosto grande. La casa è molto grande. La casa è davvero grande. Com'è era il film? La casa è piuttosto veloce. 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 Il caffè. Si, a lei piace il caffè. A tuo padre piace il caffè? No, non gli piace il caffè. No, non gli piace il caffè. Non, 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 non gli piace il caffè. Quali animali ti piacciono? Non, non gli piace il caffè. 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 Non, non posso. Sì, so giocare a tennis. No, non so giocare a tennis. Non, non posso giocare a tennis. Non, non posso giocare a tennis. 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 No. Non posso giocare a tennis. 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 Umiem grać w tenisa. So giocare a basket. Umiem grać w koszykówkę. Umiem grać w koszykówkę. Umiem grać w koszykówkę. Umiem grać w koszykówkę. Na jakim instrumencie muzycznym ona umie grać? 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 Lej sa suonare il violino. Ona umie grać na skrzypcach. Ona umie grać na skrzypcach. Ona umie grać na skrzypcach. Lej sa suonare la chitarra. Ona umie grać na gitarze. Ona umie grać na gitarze. Ona umie grać na gitarze. Dieci. Parlare di apparence. Che aspetto ha lui? Jak on wygląda? Jak on wygląda? Jak on wygląda? Jak on wygląda? E alto. On jest wysoki. On jest wysoki. On jest wysoki. On jest wysoki. E basso. On jest niski. On jest niski. On jest niski. On jest niski. Che aspetto ha lei? Jak ona wygląda? Jak ona wygląda? Jak ona wygląda? Jak ona wygląda? E grande. Ona jest duża. Ona jest duża. Ona jest duża. E piccolo. On jest mały. On jest mały. On jest mały. On jest mały. Esnella Ona jest szczupła. Ona jest szczupła. Ona jest szczupła. Ona jest szczupła. Epeleosa Ona jest chuda. Ona jest chuda. Undici. Parlare di personalità. Che persona è? Jaki on jest? Jaki on jest? Jaki on jest? Jaki on jest? E gentile. On jest uprzejmy. On jest uprzejmy. On jest uprzejmy. E amikevole. On jest przyjacielski. On jest przyjacielski. On jest przyjacielski. On jest przyjacielski. biawe. On jest przyjacielski. Jaki on jest? leist. JAKA ONA JEST? È DIVERTENTE! ONA JEST ZABAVNA! ONA JEST ZABAVNA! EZVELJA! ONA JEST MĄDRA! ONA JEST MĄDRA! ONA JEST MĄDRA! ONA JEST MĄDRA! GUNEPPOL! JAKI JEST PAUL? JAKI JEST PAUL? JAKI JEST PAUL? JAKI JEST PAUL? ALEKS E SILENZIOSO! ALEKS JEST CICHY! 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 KUME SARA? JAKA JEST SARA? JAKA JEST SARA? JAKA JEST SARA? JAKA JEST SARA? SARA Jest TIMIDA! SARA JEST NIESMIAŁA! SARA JEST NIESMIAŁA! SARA JEST NIESMIAŁA! 12. Parlare del tempo atmosferico Che tempo fa? Fa molto caldo Fa caldo Come il tempo a Oslo? Come il tempo a Oslo? Fa fresco ad Oslo Fa freddo ad Oslo W Oslo è zimno W Oslo è zimno W Oslo è zimno W Oslo è zimno Che tempo fa oggi? Jaka jest dziś pogoda? È temperato Jest ładnie È nuvoloso È soleggiato È deszczoso È ventoso È ventoso È nebbioso È nebbioso È nebbioso È nebbioso è mgliście è mgliście quante camere ci sono? C'è quattro stanze da letto c'è un giardino 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 biazza Questa è la cucina. Questa è la sala da pranzo. To jest jadalnia.